Si intitola Ritorno alla musica la ripresa della 61esima stagione concertistica del Lente Concerti di Pesaro che dopo il lungo periodo di inattività legato alla pandemia torna protagonista al Teatro Rossini. Un nuovo inizio per omaggiare inoltre i 60 anni di attività dalla Fondazione del Lente, avvenuta nel 1961. Prestigiosi gli ospiti in cartellone per i tre appuntamenti fissati ad oggi e previsti per il 15 e 30 maggio e poi 6 giugno. Sono tre eventi di grande livello, il grandissimo Pogorelic vincitore di tanti premi internazionali fra cui il Terni, casa grande di Terni ma anche di Montreal, è diventato famoso nel mondo per le sue interpretazioni sciopaniane. Poi abbiamo il concetto successivo che sarà affidato a Lisa Rieder, una allieva di Ghida Kramer e di Vittoria Numulova. Questi due artisti ne parlano benissimo di questa giovane e talentuosa violinista la quale rende un omaggio a Beethoven. L'ultimo concerto è dedicato alla musica barocca, la musica barocca con un ensemble che è venuto spesso a Pesaro ed ha riscosso veritati successi. Sarà un omaggio bandolinista di fama internazionale che suonerà musiche di Vivaldi e di altri autori del periodo del Settecento. Dopo il Teatro Rossini, protagonista sarà l'anfiteatro del Parco Miralfiore. Siamo felici appunto di riaprire il Teatro Rossini, un luogo sacro per l'immaginario collettivo della città che comunque si identifica con quel luogo per tutti i grandi eventi che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la vita musicale della città di Pesaro. Abbiamo altri luoghi, altri spazi, un anfiteatro all'aperto in una zona che fino all'anno scorso è stata quasi totalmente ignorata che forse, ecco, un'altra di quelle ricadute positive tra i tanti effetti negativi del lockdown è stata quella appunto di riscoprire e rivalorizzare certi spazi anche della città che meritano di essere vissuti. L'anno scorso abbiamo già fatto una prima stagione diciamo di prova, avevamo molti dubbi sulla riuscita degli eventi, c'è stata una risposta molto buona e quest'anno proseguiremo con un cartellone di 5 eventi di grandissimo livello con grandi nomi non solo della musica classica ma anche del mondo del jazz e del pop quindi con l'obiettivo proprio di allargare quanto più possibile l'affezione verso l'ente concerti e verso la musica in generale. I biglietti saranno venduti fisicamente presso la biglietteria del Teatro Rossini dal 12 al 15 maggio oppure online sul circuito vivaticket.it Sul sito enteconcerti.it sono invece indicate le modalità di recupero dei concerti in abbonamento annullati durante la 61esima stagione.